Sopra la cervicale e qui ti devi mettere il reggispale, adesso quello è terapeutico profondo, questo è ortopedia, capito? Sono due righe di quattro orse, qui e qui, eccolo, guardi, si avrà tanti ragazzi, qui si attacca. Si ma non ti funziona qui, ecco, guardi cos'è, guardalo, guardi commento, ve l'ho detto da messa alzitacco, ma lui non ha fatto neanche questo.